Apertura cocco settembre 2018 Per prima cosa perforiamo il cocco con l'ape bottiglie per estrarre il succo Scoliamolo bene Guarda ce l'hai un po' preso buono Vabbè è un cocchino, non mica l'anguri Partiamo, funzionerà stavolta Prendiamo delicatamente il cocco a martellate dalla parte della punta Lungo tutta la superficie Lo scopo è estrarre il cocco intero Niente martellate forti, ci vorrà qualche minuto Apertura 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 Piano, piano, senza fretta. Mi raccomando, altrimenti si spacca tutto. Come potete vedere non si notano ancora fratture sulla superficie del cocco. Piano, piano. Comienza a volare qualche pezzetto. Lego piano. Piano, se lo rompi dobbiamo riuscire da capo. Si è spaccato. Vedo una crepa. Inizia ad aprirsi. Si sarà aperto solo fuori o anche dentro. Scopriamoli insieme. Cominciano le crepe. Gaia, levati che partono i pezzi. Allora, mettiamo i pezzi di dietro. Tremate un attimo, inquadriamo le crepe. Ecco qua. Per ora tutto bene. Vediamo un po'. Saltano via i pezzi. Per ora tutto intero. Tremate un po' fretta. Guardate, sembra un uovo di pacco. Faccio tolato. Eccolo qui. Ecco come si fa. L'uovo di pacco a cocco. La patata. No, non sembra una patata. Ecco qui c'è il buco. Vedete? Giralo su tutte le parti, per favore. Giralo su... No, giralo. No, giralo. Giralo, giralo. Tegnelo così. Guardate, intero. Non si smonta. Bene. Ora avete capito tutto. Se avete sette minuti quasi di tempo per aprire un cocco, potete farlo. Se avete fretta, fatevi una martellata come si deve e via. Diciamo che con una martellatina in più si apre molto più velocemente, però volevamo avere un cocco tutto intero, quindi abbiamo fatto le cose con calma. E in più questa volta mi sembrava un po' più duro che l'altra volta. Prende anche il tipo di forma, più allungata. La patata, mamma, la patata, mamma. Adesso chiudiamo questo video e andiamo a mangiarcelo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Saluta, apri il colore di cocco. Ciao ciao.